Buonasera e benvenuti a questa prima serata di registrazione della nuova serie di stand-up comedy. Si chiama Scalda Pubblico. Non deve fare di meglio, cazzo! Un grande applauso per Mario Ratz! Più di più, come se fossi famoso. Buonasera, popolo della stand-up comedy. Mi dicono che è lo stesso pubblico da tre puntate. Cazzo, è difficile la terza volta scopare, figuriamoci, sentire uno spettacolo di stand-up comedy. Fatevi un grandissimo applauso perché veramente... Eccoli, gli immuni! Va che bella faccia! Gli immuni! Intanto ho già fatto un disastro prima di partire, immuni o no. Fuori stavo fumando una sigaretta e ripassando il pezzo e uno di voi mi si è avvicinato. Io ho gentilmente offerto una sigaretta, lui mi ha detto, guarda, ho smesso. Però, per gentilezza, la prendo, però se poi ricado nel tunnel... No, cioè, ho già rovinato una vita, cazzo. La prima fattura del medico mandala a me. Com'è andata la quarantena? Tutto bene? A me è nata una nipotina. Oh, vengo da un paese razzista, però. E il razzismo te lo mettono dosso per osmosi. E questa cosa mi ha fatto fare una grande figura di merda. Perché mi è nata la nipotina, sono andato alla nursery a giocare con la mia nipotina. Sapete le scene dei film americano che sei dietro al vetro e le fai cucicù, cucicù, cucicù. Mentre giocavo alla mia nipotina, anche in clinica, arriva l'indiano con le rose. Con la mascherina. Io lo guardo e gli dico, amico, io non sono razzista, ma... Cazzo, ma sei senza vergogna. Lui mi dice, che cazzo vuoi? Sono per mia moglie, appena partorito, razzista di merda. Io scusa, scusa, scusa. Ragazzi, questo è Scaldapubblico. Allora, noi siamo qui per una puntata di stand-up comedy. Sapete cosa è la stand-up comedy? È il cabaret che fa meno ridere, ma con più parolacce, praticamente. E noi ne siamo i rappresentanti. Questa quarantena per me è stata un motivo di crescita. Perché la mia fidanzata, la mia compagna di 40 anni, più grande di me, con le sue due bambine mi ha detto, ma perché non passiamo insieme la quarantena? Perché non vengo a vivere da te con le bambine? Ho accettato. E devo dirvi che, andando a convivere, fidanzandoti, scopri delle cose di te che prima non sapevi. Io, per esempio, ho scoperto che picchio le donne. Non l'avrei detto, però le prendo, perché loro sono tre e io sono una. Però abito nelle case popolari e questo non desta a molti problemi. Se non che le bambine della mia compagna sono bambine borghesi e fanno fatica, fanno fatica proprio ad ambientarsi con le altre bambine delle case popolari. Perché le altre bambine delle case popolari a 10-11 anni sono già truccate, hanno già i tacchi, il rossetto. Vi do questa massima, questa legge delle case popolari. Questa qua è proprio un segreto che vi portate a casa stasera. Più sono ciccioni le madri, più sono truccate le bambine. Vale alle case popolari come concorsi di bellezza. Fateci caso questa cosa. La bambina più piccola mi ha detto, è il mio compleanno. Visto che non possiamo festeggiarlo, vorrei un regalo. Ho detto, guarda, tutto quello che vuoi te lo prendo per farla contenta. Mi ha detto, vorrei un cucciolo di cane. Allora, già volevamo prendere un cane, l'abbiamo preso. Ho detto, scegli tu il cane che vuoi, che sia un bastardino, la razza, quello che vuoi. Lei fa, vorrei un carlino. Quale cazzo di bambina scegli un carlino? Il carlino è il Huawei dei cani. Se hai una bambina gli dici, scegli un cellulare. Cosa vi dice? L'iPhone, cazzo. Non il Huawei. Se gli dici, scegli un cane, non dici il carlino. Che come il Huawei, infatti, è cinese. Comunque, lì, è in carica, sta bene. Non è ancora caduto, non si è ancora rotto. L'unica cosa che non mi è mancata della quarantena sono le cene di coppia. Perché, come vi ho detto, la mia compagna è più grande. E quindi ha anche amiche più grandi. Ha 40, 45 anni. Queste le do annescono con il classico architetto borghese di Milano, affermato. Pieno di soldi. E io sono un comico che vive alle case popolari. E quando andiamo fuori a cena, questa cosa mi urta. Perché c'è sempre il momento in cui ci alziamo. E lui fa la fatidica domanda. Ma tu, figa, di che cosa ti occupi? Allora, mai dire faccio il comico. Perché, come dici, faccio il comico, questo subito ti racconta una barzelletta. E dopo che finisce di raccontarti la barzelletta ti dice Questa te la puoi rivendere. Credi che sia così facile? Cioè, tu architetto, vieni, mi racconti una barzelletta e io la metto nel mio spettacolo. Credi che sia così semplice il mio lavoro? Sì, lo è. Ma è offensivo, cazzo. Non è giusto. È come se io ti dicessi Torniamo dentro al ristorante, caro architetto, E con le bacchette del sushi ti faccio un castello di legno e tu ti rivendi il progetto. Ti piace come cosa? Brutto stronzo. Grazie. Niente, queste cene di cui non si sa mai di cosa parlare, io non sono proprio un maschio alfa, virile, no? Però ho comprato una moto, una Ducati Monster. Ho preso una Ducati Monster, non la so guidare, ma solo per avere qualcosa con cui parlare con queste persone. Ce l'ho lì in garage e quando non so cosa dire, tiro fuori le chiavi della mia Ducati e inizio a farle roteare così sul dito. Subito divento virile. Cioè il cameriere neanche gliel'ho ordinato, arriva e mi dice il signore vi lo dice un sigaro? Oppure le faccio un cocktail, quercia, whisky e bacon? Così, la cosa più virile che mi viene in mente. Se neanche con la Ducati riuscite a conquistare il maschio alfa milanese 40 anni affermato, dite la frase che fa bagnare sicuramente al 100% questo tipo di persona. Sai, sei anni fa ho comprato un bitcoin, si bagnano tutti. Su borsa e azioni si bagnano tutti. Diventerà vostro amico, vi farà vedere le foto delle vacanze alle Seychelles, vi farà vedere le sue foto con Federer, vi inviterà a giocare a tennis. E voi gli direte, non posso, ho il Carlino in carica. Grazie. Grazie. Grazie.